Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Among Us. Oggi siamo qua, come avete letto dal titolo, per andare a parlare di 5 cose che non sapete su Among Us. Quindi, mando le cianci, iniziamo subito con le curiosità che sono molto molto belle. Oggi sono abbastanza andato a ricercarle su internet e alcune le ho pensate proprio io, andando naturalmente ad informarmi sempre su internet. E la prima, sicuramente entriamo proprio in una partita perché sennò diventa abbastanza noioso vedere tutto il tempo la scritta Among Us. Andriamo in questa qua, Johnnel. Ok, eccoci qua. La prima è una curiosità che sicuramente qualcuno di voi sa. Ossia che il gioco è stato creato non nel 2020, quindi l'anno in cui è esploso, ma bensì due anni fa, nel 2018, da una start-up di ragazzi, un gruppo di ragazzi universitari, che come studio universitario, dato che studiavano informatica, ha deciso proprio di creare questo gioco. Questo gioco che venne creato con un codice base, il codice di un gioco ragazzi, il codice, come si può dire, il codice è quello binario, quello che si basa su tutto il gioco, dove si sviluppa tutto il gioco. Un codice veramente base, con una grafica veramente minima, infatti avete visto che la grafica è veramente, veramente bassa di Among Us, veramente, veramente semplice. E come si hanno fatto? Hanno creato questo gioco, che non ebbe successo. E qui entra in gioco la seconda curiosità. La seconda curiosità è molto molto interessante, infatti nella seconda curiosità vi andrò a raccontare quando ha avuto successo Among Us. Infatti, come ha fatto ad avere successo Among Us? Among Us, ragazzi, vediamo uno a caso. Questo qua. Among Us ha avuto successo attraverso alcuni streamer. Infatti, ci sono degli streamer asiatici che, appunto, decidono di giocare a questo gioco in modo molto molto tranquillo, dato che giocavano all'altro gioco della Inneslot, Harry Stickmin, hanno visto questo Among Us e hanno iniziato appunto a giocarci. Il gioco è piaciuto, il streaming funzionava, perché appunto è un gioco che va molto molto bene per lo streaming e deve essere successo sicuramente allo streaming, su Twitch in particolare. e hanno visto che funzionava e quindi altri streamer si sono ispirati. E di conseguenza è stata tutta una catena, fino ad arrivare in Europa, dove è totalmente esploso. Ragazzi, il gioco ha subito un calo di veramente di tutto, cioè una crescita incredibile riguardo ai giochi e tutto. Ad agosto, fino ad esplodere in modo totale a settembre, soprattutto in Italia, ho visto che molti di noi iniziano a trollarmi. Ok, iniziano a trollarmi il gioco, abbiamo capito. Appunto, subendo una salita di giocatori clamorosa. E questo sicuramente poi è stato visto ad ottobre. Adesso sta subendo un piccolo declino. E questa è appunto la terza curiosità. La terza curiosità è stata che il gioco ha avuto sempre una media di 50.000 giocatori, fino ad agosto, dove è salito tantissimo. Successivamente, adesso a novembre, sta subendo una decrescita. Ma è anche giusto così, dato che ha tenuto ritmi altissimi per un sacco di tempo. E naturalmente questo non si sa ancora, fino a quando. Nella terza curiosità insererei anche il fatto che Among Us è stato il gioco più giocato di sempre nel mese di agosto. Ed è anche quello, qua mi sta continuando a disconnettere dal server, good, good, good. Ed è anche stato il gioco, effettivamente, con più visualizzazioni in un solo mese su YouTube. Addirittura battendo il record di Fortnite. E, inoltre, è stato anche un gioco, di quarta curiosità, che ha spodestato Fortnite dal titolo di miglior gioco su Twitch. Dato che Fortnite è stato il gioco con più spettatori su Twitch. Bene, Among Us l'ha superato, ragazzi. Among Us ha fatto veramente il devasto. Un'ultima curiosità importante, e sicuramente molto, molto interessante, che vi interesserà per il futuro di Among Us, è quella che la Inner Slot, questa azienda, che poi ha acquistato il gioco successivamente, ha deciso di ampliare il codice base. Quel codice base creato da quei ragazzi di cui vi ho parlato prima, verrà ampliato in modo tale che tutti possano giocare ad Among Us e venga supportato, effettivamente, il nostro questo aggiornamento, che tutti stanno acclamando, che dovrebbe essere in uscita, in teoria, se non erro, i primi di dicembre. Comunque, tenete la campanellina attiva e il like per sapere tutto e condividete il video con i vostri amici. Mi raccomando, è molto, molto importante questa cosa. Sicuramente, sicuramente, ragazzi, adesso concentriamoci un attimo su questa partita molto, molto importante, sperando che il gioco non mi trolli, perché veramente, negli ultimi tempi, devo dire... Mi fa reputare? Ragazzi, c'è... Inner Slot, Inner Slot. Io spero tu stia scherzando, spero tu stia scherzando. Non mi sembra normale una cosa del genere. Cioè, io avevo l'opportunità di rapportare un corpo, di segnalare un giocatore, e tu mi vai a bannare? Tu mi vanni dal server? Ok. GG. GG, well played. Ottima giocata da parte della Inner Slot. Ottima giocata da parte della Inner Slot. Bene, ragazzi. Le cinque curiosità erano, appunto, queste. Io spero che, naturalmente, il video vi sia piaciuto, e che sia stato di vostro gradimento. E vi consiglio, soprattutto, di passare domani. Domani esce un video in cui scioppo il passo. Quindi, io... Io... Io ci passerei. Io ci pass... Io ci passerei. Chiudiamo con questa schermata, perché veramente questa cosa che mi disconnette dei server non va per niente bene. Forse la mia connessione è talmente del Burundi che, per caricare questo video, ci vorranno anni. Però... L'importante è che voi lo vediate. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, lasciate un big like, condivisione con i vostri amici, che è fondamentale per la crescita del video. E niente, iscrivetevi al canale, attivando la campanella, e... Che dire? Commentate qua sotto con la curiosità che vi è piaciuta di più, e altri consigli su dei video. Quindi, bene ragazzi, noi ci picchiamo in un prossimo video. Bella boys! Ah, ecco, quasi mi dimenticavo. Se qualcuno di voi volesse supportarmi a livello monetario, trovate il link qua sotto in descrizione, sia dell'abbonamento, sia delle donazioni, che sono dirette su Paypal. Quindi, se volete farlo, grazie mille, e supportate il canale e la postazione che mi sto creando. Uscirà poi magari un vlog a riguardo, ma... Questa è un'altra storia. E detto questo, naturalmente vi auguro una buona giornata, e noi ci picchiamo. In un prossimo video! Bella boys! Ciao! 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 Grazie a tutti.